Buongiorno a tutti, oggi vi parlo di un piccolo esperimento sonoro che ho voluto fare. Ho acquistato da poco su internet questa kalimba, che è un po' particolare perché è una kalimba elettronica. Si tratta di una kalimba del tutto simile a quelle tradizionali, soltanto che ha un microfono all'interno della cassa di risonanza ed è in grado di mandare un segnale audio. Sostanzialmente c'è un microfono che registra il suono e questo permette ovviamente di sfruttare il segnale per mandarlo a qualsiasi fonte. Per esempio un pedale di riverbero, un pedale di delay, un pedale di effettistica, un sampler, visto che nell'ultimo video ho parlato di sampler. In particolare mi sono accorto che utilizzando il Soma Cosmos si potevano registrare anche altri suoni perché la cassa di risonanza è una cassa molto buona, perciò parlando molto vicino alla cassa di risonanza è possibile anche registrare la voce. Perciò ho deciso di fare questo piccolo esperimento. Purtroppo per rendere udibile la mia voce ho dovuto usare un pitch abbastanza alto, perciò ho dovuto usare il falsetto che magari potrebbe risultare spiacevole per qualcuno, però è solo un esperimento sonoro. Ho provato a fare questo esperimento con la Calimba, credo che sia una cosa un po' pazza, un po' interessante. Quindi Calimba, pedale di riverbero Boss RV6 e Soma Cosmos. Vediamo cosa succede. Soma Cosmos. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.